Bonascini ha detto che è stata un'occasione persa per voi. Sono d'accordo, sapete bene il mio pensiero, poi rispetto alla decisione che è stata presa di correre in maniera indipendente, secondo me abbiamo perso comunque un'occasione, l'ho ribadito, quantomeno di metterci al tavolo a parlare di temi. Visto che abbiamo un governo a livello nazionale che sta lavorando bene con il centro-sinistra e sta lavorando, ha detto, di tanti meglio rispetto a quello che riusciva a fare con il centro-destra, potevamo sederci appunto ad un tavolo e discutere del programma e vedere se c'erano delle tematiche comuni, degli obiettivi comuni da raggiungere nei prossimi cinque anni, partendo già da una base di lavoro svolta nei cinque anni precedenti. Prima Lia Montalti citava ad esempio l'abbattimento delle rete degli asili nido, quella ad esempio era una nostra proposta, così come l'eliminazione del super ticket in Emilia Romagna era una nostra risoluzione, prima firma mia, approvata circa due anni e mezzo fa in aula e poi messa in pratica dalla Giunta Bonaccini, oltretutto linee che già ad esempio il Ministero della Salute, quando era presieduto dall'ex ministro Grillo, stava cercando di attuare a livello nazionale, quindi indubbiamente magari delle comunità di intenti c'erano, non c'è stata l'occasione per noi, visto anche il risultato e visto purtroppo il calo di voti che stiamo avendo da mesi, quindi non solo in questa tornata elettorale, poteva essere un'occasione per poter per la prima volta entrare al governo di una regione. Faremo il nostro lavoro da opposizione costruttiva, come è già stato dichiarato dalle due nuove elette, in realtà consigliere uscenti, quindi insomma mi auguro che comunque il rapporto costruttivo vada avanti anche se si fa parte non della maggioranza ma dell'opposizione. Per la senso che sicuramente il voto disgiunto ha inciso molto sul 3,4% raccolto dal Movimento 5 Stelle, qual è il futuro del Movimento in Emilia Romagna? Si riuscirà a trovare la quadra tra le due anime? Beh, innanzitutto abbiamo due rappresentanti in Consiglio regionale, quindi nonostante la rappresentanza sia inferiore rispetto alla scorsa legislatura, sicuramente si impegneranno per portare la voce di tutti i territori, come abbiamo fatto nei cinque anni precedenti, dove non avevamo un rappresentante per ogni provincia, ma ognuno di noi si è speso anche oltre i confini della propria circoscrizione elettorale. Poi come è stato detto dalle mie due ex colleghe, perché ormai io non sono più in Consiglio regionale, adesso sono loro in realtà le vere, coloro che hanno diritto a utilizzare il logo del Movimento 5 Stelle, come hanno detto loro, giustamente si farà opposizione, giusto opposizione, e si darà un contributo alle politiche regionali, dove ci saranno delle critiche da portare, e le si porteranno, dove ci saranno dei provvedimenti giusti, lì si voterà, esattamente come nei cinque anni precedenti. Noi ci siamo sempre concentrati sui temi, nel momento in cui c'era un qualche cosa da migliorare, lo abbiamo fatto, nel momento in cui c'era qualcosa da criticare, lo abbiamo fatto. Quindi credo che con questo spirito si potrà lavorare bene anche nei prossimi cinque anni. Allora, l'eloquenza di Raffaella Senso è sempre incumiabile, perché il Movimento vive un periodo non facile, le sardine hanno preso il vostro posto nelle piazze, c'è una problematica proprio di anima del Movimento 5 Stelle. Ecco, se ne parlerà agli Stati Generali, che cosa potrebbe uscire? Un Movimento 5 Stelle più di governo, magari? Ma che cosa uscirà dagli Stati Generali? Non lo so. Quello che mi auguro io personalmente, dopo dieci anni all'interno del Movimento 5 Stelle, è che si ritrovi innanzitutto uno spirito costruttivo dalla base. Sicuramente dopo l'entrata al governo la Lega ci ha sottratto voti, è indiscutibile. Noi forse abbiamo un po' avuto la pecca di concentrarci molto sulle cose da fare, poco sulla comunicazione, forse dovevamo comunicare un po' meglio e regalare un po' meno, come dire, verginità a Salvini, passatemi il termine, che si è un po' rifatto il trucco anche usando i nostri concetti di onestà, trasparenza e correttezza, correttezza che sicuramente poi non ha dimostrato nei fatti, perché poi anche Morrone parla di questo governo, ma insomma se Salvini l'8 agosto avesse bevuto un moito in meno, forse al governo c'era ancora lui, quindi insomma... Però, a parte gli scherzi, noi indubbiamente abbiamo un percorso da fare, forse qualche cosa da rifondare. Come dissi all'epoca quando stavamo valutando un'ipotesi di coalizione con il centro-sinistra in questa regione, in questo momento dobbiamo decidere forse anche da che parte stare, perché va bene il terzo polo, va bene la terza via, però in questo momento la nostra regione, in generale il paese, ci chiede altro. Nessuno ha negato che, io tantomeno che il Movimento 5 Stelle stia vivendo un momento di crisi, bisogna anche conoscere la storia del Movimento 5 Stelle, noi siamo nati, accomunati da tanti temi, ed è indubbio che abbiamo raccolto coloro che erano insoddisfatti della vecchia politica, e quindi anche dei vecchi partiti, tra cui anche magari qualcuno che veniva all'epoca già dalla Lega, che è il partito più vecchio d'Italia. Però, accomunati da questi grandi temi, ad oggi portati avanti, alcuni di questi grandi temi, soprattutto una volta entrati al governo, oppure entrati come sindaci in molte città, ad oggi io sono la prima che ha detto, dobbiamo decidere da che parte stare, nel senso che ci sono sicuramente delle affinità con alcune parti politiche, e non ci sono queste affinità con altre parti politiche. Io qui negli interventi che ho sentito, sinceramente il messaggio non da politico, ma da cittadino, che mi è arrivato è, voglio la plastica, voglio il cemento, in una regione, in un mondo che non si può più permettere, né la plastica né il cemento, perché poi quando si parla di plastic tax, bisogna anche capire che ci sono delle misure a favore della riconversione, delle industrie, se volete la plastica, il cemento e il gioco d'azzardo, chiedo scusa, mi ricredo, ha fatto benissimo Salvini a far crollare il governo.